34 punti di differenza tra la terza della classe e l'Agnonese, tristemente Fanalino in coda al girone. Per i molisani un'impresa titanica, strappare punti ai terramani di Guido Di Fabio. Igranata di casa in completo bianco, in panchina Mister Di Rosa porta all'ultimo arrivato l'attaccante esterno Campanos Bordone ex Gladiator. Rispetto alla gara di andata, l'Agnonese si presenta con un 11 totalmente rivoltato. Negli abruzzesi le manovre sono affidate ai mediani Loviso e Croce. Assente invece il difensore centrale Casimirri per infortunio, fischietto affidato a Edoardo Papale di Torino. Schieramento superoffensivo per gli ospiti, 4-2-3-1, locali in campo nel più classico 4-3-3. Per vedere la prima azione degna di nota, bisogna attendere il nono. Sosa per l'Olimpia entra in area e scodella al centro. I locali reclamano un braccio largo di foglia. E in ogni caso incoraggiante l'approccio della squadra di casa. Il Castelnuovo fatica a trovare spazi centralmente. Diciottesimo velo di Sosa steso sulla tre quarti. Abercon si infila tra le maglie difensive e scarica in rete. Un sinistro terrificante sul quale nulla può. Olivieri, 1-0 in favore dei molisani. Loviso da posizione interessante. Cestina malamente, lontano dal palo. Il calcio di punizione ha proprio favore al minuto 22. Di Lollo ruba palla e apre per la corrente. Barbato, i neroverdi sono sistemati non bene. Il tracciante di quest'ultimo non trova l'angolino giusto. Di Lollo, già ammonito, colpisce a centrocampo Emili dinanzi agli occhi dell'arbitro. Rosso diretto, il capitano finisce antitempo sotto la doccia. Agnonese in dieci dal minuto 28. Serpentina di Tankulici che salta gli avversari e dal fondo innesca Sosa che arriva con un soffio di ritardo per l'appuntamento con il raddoppio. Gli abruzzesi aumentano i giri del motore. L'agnonese non si scompone e lasce in avanti il solo Abercon. 4-4-1, il sistema corretto sul rettangolo di gioco. Di Ruocco tenta con il destro dalla lunga distanza, sfera sporcata in angolo dai difensori di casa, dinanzi all'estremo Caputo. Rasoiata su punizione del solito Loviso, Caputo non trattiene ed è un gioco da ragazzi per fagioli gonfiare la rete e guadagnare il pari. La migliore Olimpia in stagione vista al Civitelle ha tenuto in scacco i quotati avversari per gran parte del primo tempo. Subito minacciosi gli ospiti alla ripresa con Di Ruocco dopo meno di 60 secondi sul binario Mancino. Dall'angolo successivo si infila in area piccola il difensore di colore Ndoie che di testa dal secondo dispiacere a Caputo. Il Castelnuovo ribalta il risultato e passa a condurre 2-1. Azione tutta in velocità dei locali al traversone da Costa che taglia l'intera area braccio di Foglia non redaguito dalla terna arbitrale. Croce e sterza improvvisamente scarica un sinistro velenoso che finisce alto di un niente sulla traiettoria. Il portiere Caputo al minuto 18. Castelnuovo ancora vicino alla terza marcatura. Angolo di Loviso stacca di testa Terrenzio che impegna severamente Caputo, ultimo baluardo della difesa. L'Agnonese con un giocatore in meno non può avere la stessa intensità dei primi 45 minuti. A fare adesso la partita sono gli ospiti abruzzesi. Trama tambureggiante dei Neroverdi al tiro più volte si salvano in corner con affanno i molisani. Terramani fermati ancora una volta da Caputo che chiude bene Croce sul primo palo poco dopo la mezz'ora. Olimpia in debito d'ossigeno. A dieci minuti dal termine la panchina di casa si gioca la carta dell'ultimo arrivato. La punta sbordone per l'esausto Barbato. I Granata però rischiano di nuovo al 41esimo. Salva Nicolopulos quasi sulla linea di porta con Caputo superato. Al triplice fischio restano per i padroni di casa la prestazione, il cuore, una sensibile crescita tecnica e fisica. Al Castelnuovo Romano la vittoria e il sesto successo esterno della sua ottima stagione.